Eccomi qui sempre al 55, ultima serata della Milano Fashion Week, noi siamo al Fashion Art & More e accanto a me ci sono Cinzia Cerbis e Dario Musi che rappresentano qui l'azienda Alfa Parf con due marchi ben precisi che sono Decoderm e Dibi. Faranno anche un cadeau spettacolare a tutte le donne che sono intervenute, alle signore che sono intervenute a questo splendido evento. Voi vi occupate della parte skin, mi avete detto, quindi vi occupate della cura della bellezza della pelle e avete curato anche proprio l'immagine, il make-up delle ragazze che sfileranno questa sera. Sì, questo è stato un pomeriggio di grande lavoro, abbiamo lavorato nel backstage con le ragazze, con il nostro marchio make-up Decoderm e il nostro face beauty maker Gio Barone e il suo staff. E per Dibi, chiaramente le modelle hanno poco bisogno di skin care in questo momento, ma poi l'avranno. Ma per tutte le signore intervenute ci sarà un omaggio Dibi a fine serata. Bellissimo, io non vedo l'ora, se sono una delle signore... No Dario, a parte gli scherzi, mi parli anche un po' dell'azienda. Sì, l'azienda è un'azienda multifunzione, perché spazia dai prodotti per capelli ai prodotti di skin care fino al make-up. Ma questa sera ci piaceva parlare soprattutto di Dibi e di Decoderm, perché meglio si sposavano con questa bellissima iniziativa di questa serata. Dibi è un marchio forse più famoso per i suoi centri, i famosi Dibi Center, che sono più di mille in Italia, e la nostra nuova sfida è quella di conquistare il mondo, quindi stiamo velocemente portando il Made in Italy fuori dall'Italia e anche, devo dire, con discreto successo e con buone soddisfazioni. Mi sembrava il marchio più bello per la serata da portare. Assolutamente. Quindi per chi volesse un pochino approfondire, può andare sulle vostre pagine, quindi Dibi? Pagina Facebook, Instagram, piuttosto che sul sito dove le informazioni sono più tecniche. Se invece si vuole essere un po' più giocosi, sicuramente Instagram e Facebook. Quindi Instagram e Facebook di Dibi, di Decoderm? Decoderm, esatto, e tanti marchi che fanno parte di Alphapark Group. Grazie ragazzi. Grazie a voi, buona serata. Grazie.